Si tratta di un sistema appunto che giornalmente vede impegnate 1.500 pattuglie operative poste a tutela di un parco veicolare circolante interno pari a oltre 42 milioni di veicoli, numeri che fanno oggettivamente riflettere, fanno impressione. Professionalità, specializzazione, spirito di servizio caratterizzano uomini e donne che prestano la loro opera nei ranghi della polizia stradale impegnati in molteplici indispensabili attività di prevenzione, rilevazione, accertamento, scorta, regolazione, tutela, controllo, soccorso e qui i vari ruoli dalla prevenzione alla consolazione. Mi ha colpito molto questo passaggio.